qua allora ho cominciato a collegare l'inverter sto facendo i collegamenti qui anziché attaccarmi al 110 volt che assorbe un ampere e 6 anziché attaccarmi al 110 volt che assorbe un ampere e 6 mi attacco ai 220 volt lo sapete che per i rapporti di trasformazione tenendo presente che i trasformatori hanno la stessa potenza sia in ingresso che in uscita perciò tenendo presente i 100 150 volt ampere di potenza facciamo finta che siano 100 no per modo di dire uscita erroga al massimo corrente nominale di funzionamento un ampere e 6 pertanto all'ingresso se lo alimentarsi a 220 volt erroga cioè assorbe a metà circa 0 8 ampere come scritto nella tabella nella 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 tabellina nell'etichetta del trasformatore allora praticamente come carico al invertito gli do 0 8 ampere così è un po più tranquillo visto che l'alimento senza il collegamento dei transistori gbt alle alette di raffreddamento dopo sempre con rapporto di trasformazione dei trasformatori sapete che se io alimento da 0 da 0 con i 110 volt qua avrò la metà di tensione hai capito anche il diametro dei fili dell'avvolgimento nel rocchetto se il primario che è un 220 a un filo di sezione un filo ramato di sezione per modo dire di due millimetri quadri di un millimetro quadro all'uscita che è un 110 volt con rapporto di trasformazione tenendo fissa la potenza che è fissa si avranno un avvolgimento nel rocchetto con filo anziché di un millimetro quadro del primario di due millimetri quadri questo è il rapporto di trasformazione dei trasformatori loro questo l'ho collegato qui ho già collegato i due fili che alimentano l'inverter e anche qui ho messo il positivo cioè il positivo la dopo devo guardare anche se questa è la fase ho messo la fase sopra come da richiesta e il neutro sotto come da richiesta adesso io ecco lì si comincia già a muovere qualcosa si comincia già a muovere qualcosa vedete sto dando su l'alimentazione è partita la ventolina il carico non l'ho ancora attaccato vediamo qui ci sono tutti quanti i vari led adesso è acceso il led di stop giustamente main power e il led mi stanno dicendo che c'è vedete i led adesso l'ho alimentato mi stanno dicendo che l'ho power logic ok clock ok ma in power adesso io torno a spegnere il e poi prendo fuori la termocamera prendo fuori la termocamera ok accendo questa è la termocamera così dopo ogni tanto controllo i finali anche senza bisogno di toccarli col dito col termometro che non si scaldano troppo che spettacolo i finali sono lì poi cos'è quel bel cosino caldo lì che non mi sembra un finale allora adesso la termocamera è molto utile adesso la tensione è bassa ecco quando si fanno questi lavori qui in tensione si raccomanda di farli solo se si è altamente esperti perché si rischia di fare dei danni anche di farsi male di prendere la corrente adesso io sto guardando con la termocamera adesso posso anche dare su tensione ecco cosa sono sono le resistenze perché specialmente quando si lavora con degli autotrasformatori non si sa mai se la fase è in nei posti che si esempio qualcosa è a massa nelle vecchie radio a valvole non si sa mai se la fase è sul sul sassi o se è dentro nell'elettronica allora i MOSFET i MOSFET sono a posto da su sto facendo il controllo è quello che si scalda quello condensatore si si scaldano le quattro resistenze di fatti sono tiepide io vado avanti a collegare tutto si scaldano le quattro resistenze di fatti non c'è collegato carico e i MOSFET sono vado avanti a collegare il tutto qui ho il potenziometro e adesso faccio anche il collegamento di questo faccio tutto volante tanto per l'elettronica di regolazione non passa tanta corrente e posso attaccare anche di questi MOSFET qui a cocodrillo che si scaldano le quattro allora questo è il superiore del potenziometro ci attacco a 10 volt collegato poi prendo giù degli altri cavallotti adesso collego il centrale che va attaccato analog in cioè ingrasso analogico cioè il riferimento collegato e poi attacco l'ultimo il GND ecco qua collegato poi questo è collegato ok mi è rimasto da attaccare ecco naturalmente ho collegato qui i flat i flat del segnale il flat della ventolina e questo è praticamente il flat dei contatti del relais che sarà quello che dà gli allarmi poi frequenza GND frequenza run stop run e stop allora devo fare un altro collegamento dopo vediamo il run e lo stop se lo prende con il negativo con la massa oppure con i 10 volt secondo me lo prende con la massa tanto preparo questo è sul run stop e poi c'è anche la frenatura questo è sul run stop e dopo la massa dovrebbe essere GND e l'altro bianco GND frequenza run stop è l'ultimo è il penultimo ecco collegamento è fatto adesso vediamo provo a dargli corrente se sentite una botta sapete già chi è stato e allora questo è quello bianco che è per dare il run poi adesso prendo un altro collegamentino un altro cavallotto io prima però prima di collegare il carico prima di collegare il carico voglio provare a dare il run stop senza il carico adesso alimento giro la ventola adesso do il run stop vediamo cosa succede il run stop lo provo a mettere sul GND gli do il contatto lo metto a massa il run stop oppure se dopo provo a dargli gli gesti qui dovrebbe sapere cosa ci va a dare poi ci va a dare il run stop hai disciolto gli inverter vabbè provo tanto con questi piccoli segnali qui non succede niente dopo si dovrebbe abilitare l'uscita e lavorare i transistor EGBT quindi run stop questo qui 1, 2 e 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 controllo bene i collegamenti perché qui non si scherza vedi e di fatti mi ero sbagliato allora analog in il rosso va messo qui poi il GND va messo qui sotto che è l'altro bianco sembra facile a fare i collaudi ma è difficile 1, 2, 3 poi c'è 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alla frequenza 5 è 1, 2, 3, 4, 5 l'optocom poi c'è frenatura poi c'è run stop ex lock e frequency e poi c'è 1, 2, 3 frequency 1, 2, 3 qua 1, 2, 3 optocom ecco adesso provo a dare l'abilitazione ho provato a dare l'abilitazione main power però per fare un bel lavoro bisognerebbe che guardassi anche l'assorbimento della corrente vediamo qui si vede sempre il solito calore delle resistenze se un clic ci guarda con la termocamera che fare alimento alimento collego il carico così vediamo che succede che succede ecco qui c'è il trasformatore collego ai 220 volt del trasformatore così anzi che assorbirmi un ampere e otto me ne assorbe un ampere e sei me ne assorbe solo zero 8 adesso collego naturalmente non tocco niente della centralina lavoro su un piano isolato in questo caso è di legno bisogna stare attenti quando si lavora con la tensione con la corrente dobbiamo stare attenti un bel po' specialmente con gli apparecchiatori industriali che vanno 110 220 380 raddrizzatori ti portano a tensione a 400 la parte continua poi dopo viene lavorata con MOSFET o IGBT per fare la parzializzazione delle onde oppure la variazione di frequenza 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 11 12 12 11 12 12 13 14 15 15 18 18 18 19 20 21 21 guarda qua guarda qua perciò io direi che sono pronto il potenziometro lo metto circa metà così se per caso parte questo un 10 giri 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 6 così vediamo che succede mosfet sono freschi provo a collegare attivare vediamo la resistenza segna vedete si vede la termocamera e adesso punto sulle resistenze segnano sui 35 gradi i mosfet sono freddi qui sembra tutto a posto vediamo cosa succede non ci arriva fuori niente non arriva fuori nessuna tensione la scheda è alimentata tutto e allora com'è qui per alimentare l'uscita come si fa a non avere il manuale a non avere il manuale di funzionamento così non è abilitato dunque posso fare anche beh l'alimentazione c'è perciò il giallo adesso seleziono qui dici a ci vediamo cosa mi dice o 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 e vado 55 qualcosa si muove ragazzi qualcosa si muove avendo cambiato l'abilitazione dove vedete qui nell'abilitazione questo si vede non si vede vedete qui ci sono i cavetti avendo cambiato l'abilitazione sembra che si muova qualcosa adesso sembra che si muova qualcosa ah no questo non ci arriva volevo provare a guardare con il siloscopio cosa si vedeva ci guardiamo quello si lo scoppio metto qui lo si lo scoppio dunque la sonda quando si lavora diciamo a tensioni un po più alte di solito 12 10 15 9 24 volt qui per sicurezza metto per 10 metto per 10 la sonda e poi mi collego sui 55 volt adesso qualcosa si vede qualcosa si vede prendo un po di filo e poi collego qualcosa si vede il cacciavite eccolo qua abbasso tolgo tensione collego vediamo cosa succede ci si diverte a fare questi ciappini, questi lavoretti eh Poi collego l'ossiloscopio, evito la tensione. Ecco guardate, c'è l'ossiloscopio qui, c'è un po' di disturbo. Qualcosa si muove ragazzi, guardate l'ossiloscopio, lo vedete? Adesso ve lo faccio vedere. Adesso, io regolo il potenziometro, vediamo cosa succede. VRMS, è piccolo però, è piccolo, è piccolo. VPP è piccolo, è piccolo, c'è poca tensione. Perchè, se io lo metto, se io stacco, lui regola lo stesso, se io abilito di qua nel bianco, smette del tutto. VPP è piccolo, è piccolo. Vediamo qua, se si è scaldato qualcosa. Ci sono le solite resistenze calde. i transistri di GBT sono tutti freddi. lì si muove qualcosa, ma le tensioni, i valori sono bassi. i transistri di GBT sono tutti freddi. i transistri di GBT sono tutti freddi.